Vi ricordo che vado in live tutte le sere alle ore 21 e 29 sul sito Viola. Mi potete trovare cercando Nefastone. Partita del record stagionale. Partita delle 6.009. Chimica, matematica e fisica. Bene, Jacopo, io spero che lei non faccia lo scientifico, perché invece il debito in chimica e matematica e in fisica. Che scuola fai, Jacopo? Che scuola fai? Scientifico, vero? Debito in matematica, fisica e chimica. Cioè, fai lo scientifico. Peccato perché sono le materie di indirizzo, no? Queste. Andiamo. Invece sì. Eccala. Andiamo. No, partita. Che vogliamo fa? Potrei anche splittar, ma sì, dai. Non lo faccio mai. First play. Lo volevo fa' stavolta, dai. Pena volta. We want to do this. We want to do this. We want. We want to do this. We want to do this. We want to do this. Megullius. Veloce, veloce, veloce. Non è, non è braven. Braven! Braven. E però mi sa che... A occhio mi sa che urge qualcosa di plus. Yes, yes. I have dictated Bened. Well, Bened. Allora, qual è il discorso? E comunque con i maiali e Luana qualche danno l'hiamo fatto. Il problema è che lui comunque c'ha un farmer bello carico. Questo è da dire. Quindi, io per non sapere leggere e scrivere farei prima gli... Eh, ho sbagliato. Eh, ma affangulo, va. Oh, a me ha son goione. Son goione, raga. Non volevo far sta giocata, ovviamente. Volevo giocare a Fantasma e Zappi, solo che il Fantasma era nello specchio. Io non ci ho fatto caso. Scusate, ho fatto una delle peggiori giocate che se potessero fare. Chiedo Venia. Non vi mettete a ridere nella chat, per cortesia, che comunque non è carino. Allora, qua io devo stare molto, attento. Tipo qua non vorrei mai, e poi 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 mai, giocare le frecce su di lui, no? È vero pure che c'ha scredo un'armi. Te prego, Luana, te prego. No, ma che cazzo hai fatto? Puttana madre. Eh, strega madre. Che cosa Cristo Dio hai fatto? Ma come faccio che non bestemmiano eramico antico adesso? Una madonna. Una madonna, però. Scusami, Karen. Scusami, ma che è mortaio? Ma che c'è pure il cimitero? Ma c'è il cimitero? Ma hai il griveillarde? Te c'è il griveillarde? Ah, questa credo che si faccia abbastanza... No! Allora, va bene, perché comunque il tipo lo gestiamo abbastanza. Adesso devo evitare di fare la cazzata che ho fatto prima, però, no? Facciamo prima Fantasma e poi Zappis. Che dici, nefasto? Così è un pochino meglio, eh? Che dici? Ok, allora. Qua ho iniziato ad avere un po' paura nel mentor. Devo essere sempre disonesto con il mio consuetudine. In compenso, dovremmo aver gestito, non dico tutto, ma in realtà tutto. Qual è il Discord? Che c'ho paura più del mortaio? De scheleton armi. Ah, fammi una cosa, ragazzi. Dovemmo anche rischiarlo un po' nella nostra life, no? Una hit arriverà, secondo voi, di un maiale del merda? Va bene, va bene, va bene, va bene. Orcocan, 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 orcocan. È a portata di frecce, vero? Ditemi di sì, vi prego, vi pago. Vi do una Goliador. È a portata di frecce? Non è a portata di frecce, io so sicuro, ragazzi. Conoscendomi, conoscendomi, non sarà a portata di frecce, eh? Allora, io questa la farei. Indus Keletro Giant, che bello solid, very solid. Due secondi, dai che mi ho fatto in uomo le 6.900. Vamos, cazzo, vamos! Ragazzi, il nuovo record stagionale in live. Non male, non male, il nefasto parte vera, il nefasto parte carico. Stiamo sempre più 26, ma come cazzo è possibile, però, ragazzi? Ma come cazzo è possibile? My man ha maledizione, ma sempre più 26? Ma per quale motivo devo trovare sempre avversari con molte coppie meno di me? Qua, più 26, più 26, meno 33. Fortuna un più 31, un più 30, meno 28. E che Cristo? No, non lo so, più 26, più 26, meno 33. Ma il gioco mi vede proprio come un coglione. Il gioco mi vede come un disagiato, come uno che non si accorge di sto scam. Sono in top 100 Italia, ma vaffanculo! White Mamba, questo sarà sicuramente uno che ha sentito Alex il Mamba, so sicuro. Allora, siamo in top 100? Non siamo in top 100, siamo top 117. Comunque il risultato è la madonna che ha anche il nostro record stagionale. Ragazzi, io in realtà oggi mi è venuto un crampo. È un problema se sto seduto per il momento solenne solo oggi, ragazzi, perché ho un crampo e mi fa male la gamba. Se stai seduto, poi troppi. Mignotta! Ragazzi, momento solenne, hashtag solenne, vediamo quanto siamo in top mondiale. Siamo molto bene, molto l'ante di copia, infatti siamo addirittura top 117 in Italia, ora vediamo quanto siamo in top mondiale, ragazzi. Non so davvero quanto dire, ma aspetterei davvero una top 3500, forse poco di più. In ogni caso non abbiamo grandi prezise, perché comunque la live appena iniziata potremmo droppare, o potremmo arrivare davvero altissime. Vediamo ragazzi se siamo davvero top 3500. 321, vediamo quanto siamo in top mondiale. 3386, niente male. E tra l'altro ricordo anche a tutti quanti che è anche il mio nuovo record stagionale. Sembra 921, ragazzi. Non è il record dell'account, ma è un grandissimo record stagionale. Sono molto contento, l'ho fatto anche abbastanza presto. E ora possiamo migliorarlo tantissimo. Ma ritorniamo seduti, soprattutto in Peruno. Andiamo, andiamo, andiamo. Ho un po' paura, ragazzi, adesso è droppare. Troverò opponent forti, opponent preparati. Che Dio ci avano di buona. E senza mutande. Il deck è molto forte, molto sbilanciato. Quindi, abbiamo trovato Fedez. Fedez! Ciao! Vuoi la patta? Io ho paura di te. Ho paura, ho paura, Fedez. Guarda, bella, dai, vogliamo pattare. Dai, battiamo con Fedez. Fedez, grazie, eh. Grazie, Core. Se sei in chat, come sta, Chiara? Che so che pure che la piccola, un attimo, stanotte ha fatto i capricci. Se me vuoi, dai, ecco. Ciao, Fedez. Sempre gentile Federico, eh, che ci dà la patta. Chi è questo? È Fedez. È Fedez, ragazzi. Ora ti scamma con la razza. Ma no, ma non credo, neanche la gioca, Fedez. Che poi mi ha chiamato un altro giorno. No, ne è fatto. Non sapevo che giocare, in famiglia, tutto quanto, no? Quando c'è Nalite, noi la risolvemo con Clash Royale. Come in quelle pubblicità del merda di quel gioco che scappa fuori sempre su YouTube, no? E noi siamo uguali. Allora, guarda, io dopo ho fatto qualche deck e niente. Se sono organizzati. Ragazzi, non incitate in chat allo scam, per favore. Non incitate. È Leone che ha rubato il cionare a Federico. No, spero e no. Leone, fa il bravo. Fa il bravo, Leone. Bene, bene, bene. Voleva fare una canzone con te, vero? Sì, sì, voleva. Poi io ho avuto dei problemi quell'anno e ho scelto la Michelin. Dopo lui me l'ha anche detto. Guarda, Riccardo, io preferivo te, però... Che me cantavi. Chiamami Queen, metti la Queen da come sei te, no? Quando lo fulmini su Clash Royale. E invece niente. Mi ha toccavo la Michelin e mi ha dato cambio al testo. Ho detto, vai tranquillo Federico, non so arrabbiato. Amici come prima. Possiamo continuare a scaccolarci a vicenda. Allora, ragazzi, in chat, non incitate l'opponent a scammare. Per cortesia, ok? Per favore. Non incitate l'opponent a scammarmi alla fine. Scamma per arrivare a 7000. No, devo riuscire a fare i 7000 senza questi trucchetti, senza questi sotterfugi. Devo arrivare a 7000 perché ho giocato bene. Cesarino, pure lei, ma porca puttana! Zappa all'ultimo, no? Lo scam è da canale. Ma, ve immaginate se mi scamma? Fedez ha scammato una partita... Mi ha scammato la partita su Clash Royale. Ve immaginate? Santo Dio, 200 mila visite! Porca mignotta! Contro scinti bene. Dio a Fedez di farci una strofa inedita rap. Scusate, io la sto sbadigliando un bel po', scusate, perché ho un sonno della madonna, che ho dormito pochissimo, eh? Sti giorni sono un po' a scammini. Sono un po'... Se scambi ti dono 15 euro per valo. Guardate ragazzi, i Fedez da go... Ha scammato! Ha scammato! Ma ha scammato! Ma ha scammato! Ma chi è questo? Ma ha scammato! Ma... Vabbè... Allora... Io, nel senso, non so chi sia sto ragazzo. Non è molto da fan... Cioè, questa qua non è una cosa molto carina. Se lo incontrate e ci volete pareggiare, pensateci due volte a sto punto, no? 7.500 che c'ha bisogno di scammammè, vabbè. Cesarino, applauso! Ma va a fangulo, va! Ma va a fangulo! No, a me dispiace più che altro, non tanto per la partita in sé, ok? Che era il record stagionale. Però a me dispiace più che altro perché, come si dice, abbiamo perso 5 minuti così a cazzo e cane. Per poveri scammati. Io non lo so perché ha fatto così. Boh, secondo me non c'è senso. Boh, per scammarne i fastone? Ma non credo di essere così importante, io, capito? Cioè, non sono così... Cioè, non sono importante per niente, capito? Sono l'ultima ruota del carro. Boh, va bene. Bro, spero tu sia felice. Ci hai fatto solo perdere 5 minuti. La live continuerà. I player italiani sono alcuni dei più tossici in assoluto. Fregatene, Neffi. Sì, sì, ma ci mancherebbe altro. È content. Caricherò probabilmente la clip su YouTube. E niente. Metterò anche un bel titolo clickbait. È molto poco da dire. Andiamo, nuova partita comunque. Migliori 5 minuti e le tue live. E che cazzo. Vi ricordo che vado in live tutte le sere alle ore 21 e 29 sul sito Viola. Mi potete trovare cercando Nefastone.